Ciao amici di Food Napoli, io sono lo chef Renato Grassi, l'esecutive chef di signora Bettola. Oggi vi porto nelle nostre cucine. Ciao a tutti, oggi vi preparo il tiramisù di signora Bettola. Andiamo ad unire del tuorlo Dello zucchero a velo E andremo a montarla. Una volta montato, avremo questo risultato. Andremo a montare della panna fresca Ecco qui la nostra panna fresca. Una volta raggiunto lo stato a neve, quindi che non cade, andremo ad aggiungere il nostro mascarpone. Andiamo ad incorporare bene. Aggiungiamo il tuorlo e lo zucchero montato in precedenza. Una volta unito tutti gli ingredienti, avremo questo risultato. Per andare a comporre il nostro tiramisù. Grazie. Aggiungiamo del marsala. Andremo ad immergere i nostri saverdi. A intingerli nel caffè Per andare a comporlo. Andiamo ad aggiungere la nostra crema. Vedete com'è bella densa. E andremo a coprirla ancora Fino ad arrivare all'orlo della nostra macchinetta Per come la presentiamo. E il tiramisù di signora Bettola è pronto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie.